Ore 12.49 del 16-12-2010 Siamo proseguendo per la Salerno-Reggio Calabria Strada innevata, anzi montagne piene di neve, ma un gran sole che ci... ci si... Quindi? Dove stiamo andando? Stiamo andando a Palermo A fare che? A fare fanculo pensiero, no? Oh, che bello! Oh, che bello! Ma come devo fare? Lo sto accompagnando! Sì, perché da solo non ce la facevo No, non è possibile Quindi faremo Palermo il 17, 18 e 19 E poi il 20 andiamo a Catania Andiamo a Catania, il 21 torniamo nel... Ma non so se torniamo, vediamo Non so se torniamo, infatti, si sa? E qui... Il 22 dove siamo? A Taranto! A Taranto, a Taranto! Arriva il teatro a Taranto! Musica! 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 Musica!